Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i titoli del nostro telegiornale. Maxi Blitz contro l'Andrangheta, 90 arresti tra Europa e Sud America. Avviati a Sellia Marina i lavori del Cavalcavia sotto via di via Carrera. All'Università della Calabria gli studenti chiedono di potenziare i mezzi per la tratta Cosenza-Crotone. A Vibo Valencia la Fondazione Rambaldi organizza una masterclass per gli studenti delle scuole. È un appuntamento atteso e consolidato, quello del presepe di Bagnara Calabra, che sarà inaugurato domani. È stata dunque portata a termine un'operazione della Polizia e della Guardia di Finanza in Italia, Germania, Olanda, Belgio e Sud America, che vede il coinvolgimento di 90 persone legate a cosche di Andrangheta operanti nella Locride. L'Andrangheta e le sue ramificazioni a livello internazionale, al centro di un'operazione condotta da Polizia e Guardia di Finanza, non solo in Italia ma anche in Germania, Olanda, Belgio e Sud America, è coordinata la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. In tutto sono 90 le misure cautelare eseguite nei confronti di diversi esponenti di famiglie storiche dell'Andrangheta operanti nella Locride. L'accusa a vario titolo parla di associazione mafiosa, riciclaggio, associazione detta al traffico internazionale di droga, fittizia e intestazione di beni e altri reati aggravati dalle modalità mafiose. I particolari saranno resi noti nelle prossime ore per quella che è stata un'operazione che ha visto impegnato un team investigativo composto dalla magistratura e le forze di polizia in Italia, Paesi Bassi e Germania. Risulta ben chiara fin da ora però la capacità dell'Andrangheta di riuscire a testere rapporti criminali anche al di fuori dai confini nazionali. E' il più importante investimento che arriva nel comune di Sellia Marina nel Catanzarese. Per oltre un importo di 8 milioni di euro sarà realizzato un cavalcavia che potenzierà la linea ionica ferroviaria. Con la simbolica posa della prima pietra dell'opera ha preso il via la realizzazione di una cavalcavia e di una sottovia in via Carrera a Sellia Marina. In totale saranno sei passaggi a livello che verranno soppressi che rientrano nel più ampio progetto di adeguamento e velocizzazione della ferrovia ionica per un costo complessivo di circa 8 milioni di euro. E' una giornata storica per Sellia Marina. Questa opera è un grande investimento, l'investimento più grande che c'è stato nella storia di Sellia Marina. Sono 8 milioni e 100 mila euro investimento voluto dal Presidente Oliverio, da RFI, che sono gli enti appunto finanziatori, ma anche dal governo Renzi, il governo precedente col patto della Calabria, appunto è stato inserito in un progetto più ampio che riguarda questo ammodernamento della tratta ionica. Una tratta ionica che è realizzata in tempi molto remoti, è la prima volta che si interviene per ammodernizzarla, quindi elettrificarla e metterla in sicurezza. Oggi siamo qui a Sellia ad inaugurare l'inizio dei lavori di un soprapasso e di un sottopasso ferroviario che consentirà l'eliminazione di 6 passaggi a livello. Siamo qui per constatare che anche da questo versante sono iniziati e stanno andando avanti i lavori di elettrificazione della ferrovia ionica perché ad agosto abbiamo cominciato da Sibari a scendere. Una grande opera per la quale noi abbiamo investito oltre 500 milioni di euro che consentiranno l'ammodernamento del binario e dell'armamento ferroviario, l'abolizione come qui oggi incomincia ad avvenire dei passaggi a livello, sono già 70 passaggi a livello programmati per essere aboliti e l'elettrificazione della ferrovia. Sono oltre 3.000 gli studenti universitari crotonesi che frequentano l'Università della Calabria. Un numero più che cospicuo, per questo i rappresentanti di Università Futura stanno raccogliendo firme con la finalità di ottenere una corsia aggiuntiva tra Cosenza e Crotone. Raccolta di firme all'Università della Calabria da parte dell'Associazione Studentesca Università Futura per chiedere una corsa aggiuntiva della tratta Cosenza-Crotone, visto che è considerato che numerosi studenti sono costretti a viaggiare. Sempre, secondo gli organizzatori, di questo banchetto in pessime condizioni. Siamo portando avanti questa raccolta firme per mettere un pullman in più, una corsa aggiuntiva, e anche per fare un'app in modo tale che gli studenti riescono a prenotare un posto all'interno del pullman onde evitare attesi inutili e per migliorare il servizio dei trasporti. Il servizio dei trasporti in generale oppure? No, il servizio dei trasporti soprattutto per la nostra provincia, la provincia di Crotone, che è una provincia un po' abbandonata e quindi vogliamo portare avanti questa battaglia all'interno del campus universitario. Sono vari anni che ci organizziamo con l'associazione per sensibilizzare la popolazione studentesca e soprattutto i responsabili dell'edità romano che ci negano, o meglio, danno una cattiva fruizione del servizio dei trasporti pubblico. E la petizione della tratta Cosenza-Crotone con relative fermate. E sono oltre 3 mila gli studenti universitari crotonesi che frequentano l'Università della Calabria, un numero più che cospicuo. La petizione nasce anche per chiedere una corsa aggiuntiva di domenica, sia da Crotone verso Cosenza sia dal ritorno. E cambiamo argomento. Questo ha preso il via il concorso App Vivium che vede interpreti i ristoratori che operano all'interno delle 5 biosfere italiane. Con la giornata di formazione possiamo dire che è partito il concorso App Vivium 2018-2019 che vede interpreti i ristoratori che operano all'interno delle 5 biosfere italiane. Per questa edizione protagonista sarà il pane e tra i partecipanti anche i ristoranti presenti nel Parco Nazionale della Sila. La giornata di formazione si è tenuta a Cosenza presso l'Istituto di Istruzione Superiore Mangini-Tommasi. Abbiamo la riserva di biosfera dell'Appennino Toschemigliano, la riserva di biosfera Delta del Po, quindi nelle valli di Comacchio, la riserva di biosfera delle Alpi Ledrense Giudicarie in Trentino, la riserva di biosfera delle Isole di Toscana e la riserva di biosfera del Parco della Sila. Le fasi eliminatorie locali inizieranno a gennaio dopo che saranno giunte tutte le adesioni. fino ad arrivare prima le semifinari nel mese di maggio e poi alla finale vera e propria nel mese di giugno. La proposta gastronomica in concorso che quest'anno ha il tema del pane verrà proposta in sede finale. I obiettivi principali del concorso e il fatto che è stato creato è per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, quindi le diverse culture gastronomiche dei vari territori, dato che quest'anno prendiamo proprio tutta l'Italia, quindi dal Trentino appunto alla Calabria. E in questo caso si intendono sviluppare le peculiarità e le specialità presenti nel Parco Nazionale della Sila. E soprattutto la valorizzazione del pane che è appunto l'elemento principale del concorso su cui dovranno puntare i vari ristoranti, quindi una ricetta a base di pane in cui il pane è l'elemento fondamentale e la proposta di un pane tipico del proprio territorio insieme a tre prodotti locali, quindi anche la valorizzazione proprio dei vari produttori. Il concorso nasce con questi obiettivi, quindi valorizzazione dei prodotti locali, valorizzazione dei ristoranti e il fatto di creare un networking tra i ristoranti in modo da farli comunicare, perché si fa turismo solo se si è uniti e non se si dà uno contro l'altro. La fondazione Rambaldi insieme ai Lions Club di Vibo Valencia organizza una tre giorni di masterclass per gli studenti delle scuole. E the Extra Terrestriale. E the Winners are Carlo Rambaldi, Dennis Muran, and Kenneth F. Smith for ET. Accepting the Visual Effects Award for ET, the Extra Terrestriale. Carlo Rambaldi, Dennis Muran, and Kenneth F. Smith. Questo è stato il terzo Oscar che Carlo Rambaldi vinse nella sua prolifica carriera di effettista quello che ha fatto emozionare l'intera nazione quello vinto nel 1983 per E.T. l'extraterrestre ma non bisogna scordare nemmeno quello per King Kong del 77 e quello per Alia nel 1980 Carlo Rambaldi fu un artista che non ha mai perso la sua umanità malgrado il suo lavoro lo portasse in un mondo fatto di macchine e di effetti speciali che di umano non hanno proprio nulla ed è proprio quella umanità che la fondazione che porta al suo nome sta portando avanti da quando è morto nel 2012 alla Mezzaterme cittadina dove viveva da molti anni Rambaldi era nato in provincia di Ferrara e non ha mai scordato il lavoro e i sacrifici che ha dovuto affrontare per raggiungere il successo per questo i suoi figli tramite la fondazione Rambaldi cercano di dare dell'occasione a quei ragazzi specialmente a quelli nati lontano e dalle grandi metropoli di poter conoscere il mondo del cinema e in particolar modo quello delle grandi produzioni con gli effetti speciali noi riteniamo che sia importantissimo dare un'opportunità ai ragazzi che vivono nelle province mio padre era di una provincia di Ferrara e quindi non ci sono limiti per poter raggiungere i propri sogni e non vogliamo che i ragazzi di provincia si sentono meno fortunati di chi vive appunto nelle grandi città quindi è importante fare questi eventi nelle province partner della fondazione Rambaldi in questo percorso è il Lions Club di Vibo Valencia con il quale è stato organizzato una tre giorni che per qualcuno di loro potrebbe aprire interessanti prospettive di lavoro abbiamo ipotizzato che narrare e raccontare appunto la storia personale di Carlo Rambaldi e quindi di come sia cresciuto e di come abbia fatto fortuna in questo campo sia molto importante per dei giovani ragazzi e inoltre con la manifestazione che si farà nei pomeriggi di questo evento vogliamo offrire alla cittadinanza di Vibo e speriamo di tutta la provincia la possibilità di ammirare queste opere degli effetti speciali ma soprattutto di Rambaldi per far scoprire un nuovo mondo e comunque da un punto di vista diverso quelli che sono gli effetti speciali in cinematografia E ora ci spostiamo a Bagnara Calabra dove è tutto pronto per l'inaugurazione prevista per domani 6 dicembre del presepe artistico meccanico Siamo arrivati alla quindicesima edizione il giorno 6 di dicembre sarà inaugurato per tutte le persone che vengono a vederlo sarà aperto al pubblico diciamo diciamo che ogni anno cambia la scenografia sia esterna che interna quest'anno abbiamo realizzato un po' la scenografia stile Gerusalemme con un po' di acqua, il fiume per dare vita diciamo al vero presepe artistico con i pastori in movimento anche il canto del gallo, gli uccelli un po' di tutto diciamo Il presepe resta aperto fino al 6 di gennaio? Sì, il presepe sarà aperto fino al 6 di gennaio e chi vuole venire? Noi siamo qua tutti i giorni Dalle 10 a mezzogiorno dalle 16 alle ore 20 Per tutto il periodo natalizio? Per tutto il periodo natalizio Quanto siete i componenti che siete operati a realizzare il tutto? Allora i componenti iscritti nell'associazione siamo 32 quello che lavoriamo costantemente nel presepe siamo 7 persone, 10 persone E per questa prima edizione è tutto Io vi aspetto alle 19.30 per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it Grazie e a più tardi